Tra poco è stata e uno degli argomenti che vorrei affrontare è l'assenza dei mezzi pubblici adatti per poter andare al mare o semplicemente in giro. Simpatiche quelle persone che dicono Ah ma adesso le spiagge sono tutte attrezzate per poi scoprire che o sono malattrezzate o peggio ancora lontano da dove abitate. Ma una volta arrivati al mare ci troviamo a fare i conti con l'assenza di una pasterella per poter andare in acqua e questo ci limita moltissimo. Una persona che ha la macchina può muoversi tranquillamente ma per chi invece deve essere accompagnato è difficile perché non sempre è possibile. Questo anche perché i mezzi pubblici che hanno la pedana rialzabile sono quasi inesistenti e in carrozzina è complicato salire piccoli scalini.